Allora, in un linguaggio biblico, questo è piuttosto chiaro che cosa sta dicendo. Chi è che cammina sul mare? È il Signore, Dio d'Israele, che cammina sul mare perché il popolo di Israele esca dall'Egitto attraverso il mare. E vedete che loro, i discepoli, sono messi come quel popolo. Gesù si avvicinava camminando sul mare, verso la barca, e loro ebbero paura, esattamente come nella notte della Pasqua. Non c'è bisogno che io vi richiami a quel versetto 4 che abbiamo sottolineato prima. Era vicina la Pasqua dei Giudei. Adesso, in questo clima pasquale, si ripete in qualche modo, Gesù fa un gesto che ricorda la potenza del Dio d'Israele che cammina sul mare e viene a salvare il suo popolo spaventato che deve attraversare il mare per arrivare alla salvezza. E le parole di Gesù sono molto chiare. Egli disse loro, sono io, non temete. Vi ricordate il linguaggio del libro dell'Esodo? Dio disse a Mosè di dire, io sono, mi ha mandato a voi. Io sono è il nome di Dio. Quindi questa scena che sembra quasi andare fuori tema, è una scena molto importante. Si sta per trattare la questione della salvezza. Come si fa a salvarsi? E appare il grande, grande tipo. Il popolo degli schiavi, imbottigliato tra Faraone che arriva coi carri e il mare di fronte. Ma Dio fu capace di camminare sul mare e di fare camminare gli spaventatissimi israeliti. E infatti il racconto arrivato a questo punto chiude. Allora vollero prenderlo sulla barca e rapidamente la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Ecco, finisce qui una lunga parte introduttiva di quello che sarà il discorso. Anche qui penso che il commento possa essere semplice. Appena Gesù tocca la barca, per quanti venti contrari ci siano, la barca tocca rapidamente la riva alla quale erano diretti. Arrivano alla salvezza. Ecco, in questa prima parte, in questi abbastanza lunghi ventun versetti, l'Evangelista ha creato una struttura sulla quale adesso verrà fuori il discorso del pane. Qual è il pane della vita? Che cos'è che nutre davvero l'uomo? Il miracolo è stato così grande che la folla si mette a cercare Gesù. Il giorno dopo, la folla rimasta dall'altra parte del mare, dove c'era stata la moltiplicazione, notò che c'era una barca sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche, intanto, erano giunte nel frattempo da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diressero alla volta di Cafarno, alla ricerca di Gesù. Trovandolo al di là del mare, gli dissero «Rabbì, quando sei venuto qua?» Ecco, sta cominciando un dialogo, eh? O meglio, ci sono delle domande alle quali Gesù risponderà e via via, ripetutamente, con questo procedere circolare, arriverà a esprimere una verità profondissima sul pane di vita che è lui stesso. Si parte da questo sconcerto, hanno capito Gesù, hanno visto alcune mosse, hanno capito, si mettono a cercarlo. La risposta di Gesù è una specie di doccia fredda, molto interessante comunque per noi. Gesù rispose, «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». È una frase, se vogliamo, molto dura, ma nella quale Gesù comincia a svelare perché questa gente, sì, sta cercando Gesù, ma il livello di profondità nel quale cerca Gesù non è ancora quello giusto. Quindi non troverà il vero Gesù. La frase è scritta un po' nel linguaggio di Giovanni, bisogna soffermarsi e capirla bene. Gesù disse loro, «In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». La frase per noi risulta un po' strana perché loro un segno l'hanno visto, la moltiplicazione dei pani, ma Gesù li sta rimproverando che la moltiplicazione dei pani non l'hanno vista come segno di qualcosa di molto più profondo, ma si sono entusiasmati della moltiplicazione dei pani perché hanno mangiato e si sono saziati, e sono felici e cercano Gesù che li ha saziati, che dovrebbe saziarli di nuovo, che dovrebbe dare loro questo buon pane. È evidente qui proprio il salto. Voi mi cercate non perché avete visto il segno, cioè avete partecipato alla moltiplicazione dei pani e avete capito che cos'è, ma voi mi cercate soltanto perché la vostra pancia si è riempita. Certamente il pane di Gesù ha saziato un bisogno dell'uomo, una fame dell'uomo, ma se questa gente non riesce ad andare in profondità in quello che ha fatto Gesù non saranno veramente saziati dalla profondità di quello che Gesù è. Allora dopo aver smascherato il loro livello, troppo superficiale, al versetto 27, continua, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna è che il figlio dell'uomo vi darà. Notate che c'è un futuro. Il verbo è molto interessante, qui vedo la traduzione che sto leggendo, dice procuratevi, sarebbe meglio dire operate, agite, fate opere tali che arrivi a voi non il cibo che perisce. I pani d'orzo moltiplicati sono purtuttavia cibo che perisce, viene digerito, gli avanzi non utili vengono espulsi, quello è il cibo che perisce. Procuratevi invece il cibo che il figlio dell'uomo vi darà. Allora il gesto che Gesù ha fatto con i pani d'orzo non è che un'anticipazione elementare, incompleta, di qualcosa di molto più grande che verrà. Il figlio dell'uomo vi darà un pane col quale ci si nutre, ma un pane che non è distrutto dal nostro nutrirci, un pane che non si corrompe. è il cibo che il figlio dell'uomo vi darà, il cibo che ha il sigillo del padre. Ecco all'improvviso appare la figura grande del padre. Se nel racconto della moltiplicazione era stato Gesù, lui solo, da solo, senza l'aiuto di nessuno, che aveva sfamato tutti, adesso si dice che il figlio dell'uomo, che è evidentemente Gesù, darà un altro pane e su questo pane c'è il sigillo del padre. Vedete che si sta aprendo, diciamo così, il ventaglio del Dio uno e trino dentro, dietro, scusate, a questo pane del quale Gesù adesso vuole parlare. La gente sembra avere capito ancora qualcosetta di più. e che cosa fa pensare alla folla a questo andamento di cose? Gli fa pensare a qualcosa di molto importante, un altro cibo che li aveva sfamati, la manna nel deserto. Adesso capite ancora meglio come mai sia così importante anche lo scenario del mare, del cammino di Gesù sul mare. E sono tutti temi dell'Esodo, della Pasqua degli ebrei. La manna era stata data perché il popolo non morisse dopo essere stato salvato dal mare. Ma sembra che questa cosa che la folla ricorda, la manna, a Gesù non entusiasmi così tanto come risposta. La folla anche qui cerca di fare non la folla ad essere preciso, quelli che stanno cercando Gesù, perché non è più semplicemente la folla, c'è un qualche cosa di più, è una folla diciamo maggiorata. Gli dissero quando sentono queste cose difficili quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti, quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto diede loro da mangiare il pane, un pane dal cielo, rispose loro Gesù. in verità in verità vi dico non Mosè vi ha dato il pane dal cielo ma il padre mio vi dà il pane dal cielo quello vero, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Lentamente Gesù comincia a spiegare di che cosa si tratta, cos'è questo pane misterioso che non si corrompe e vedete che con poca grazia spinge via la manna e se ne parla ancora dopo per cui molti commentatori si avventurano a dire lunghe chiacchierate sulla manna ma qui la manna non è così importante è citata da questa folla che cerca Gesù ma non lo cerca ancora in profondità Gesù dice non Mosè ha dato la manna ma il padre attenti che non dice neanche semplicemente non Mosè ha dato la manna il padre ha dato la manna cambia verbo cambia tempo del verbo non Mosè vi ha dato la manna ma il padre vi darà la manna vi darà non dice la manna scusate il pane vero che discende dal cielo il pane di Dio è quello che discende dal cielo per dare la vita Gesù lentamente ma non troppo lentamente sta puntando verso se stesso è lui il pane della vita un versetto che dovete segnare con molta cura e viene chiamato spesso dagli esegeti il primo apice è il versetto 35 all'imprevviso nel versetto 35 con un gioco molto elegante che accenno appena torna a riprendere io sono vi ricordate che nel cammino sull'acqua io sono che nel nome di Dio era così importante e qui lo riprende in un altro senso io sono il pane della vita è Gesù stesso il pane non è solo quello che dona il pane perché è capace di moltiplicare i panni d'orzo quello è stato un segno la moltiplicazione dei panni d'orzo è un qualche cosa che deve fare pensare più in profondità io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame e chi viene a me non avrà più sete ecco notate che qui nel versetto 35 c'è un raddoppiamento strano finora non si era parlato del bere si era parlato del pane dei pesci si era parlato solo del mangiare e invece qui Gesù quando parla di se stesso io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame chi crede in me non avrà più sete allora qui Gesù fa un allargamento forse per un lettore della Bibbia è abbastanza chiaro non avere fame non avere sete è la situazione di coloro che ricevono da Dio la sapienza il mondo è pieno della sapienza di Dio di Dio